Nella strada che da Benkovac porta a Scradin, guardando verso destra c'è una zona straordinaria fatta di coltivi, campi, incolti, sodi e quant'altro che l'amico Radames Benetti chiama agronomia, cioè sarebbe praticamente un mix perfetto di tutto quello che serve per fare la caccia a cui noi italiani e buona parte dei cacciatori mediterranei sono più appassionati, cioè la caccia mista con i cani da ferma, soprattutto quella che si fa agli estatini e i primi animali che si riescono a cacciare dove si può, quindi parliamo di quaglie e qualche fagiano. E' stato qui che con gli amici Fabio Antonini che oramai conoscete tutti e Mauro Taddei passiamo tanto tanto tempo qua, è stata una grande avventura, una grande giornata, caldo terribile ma ve la vogliamo regalare e smetterla con le parole perché tante volte è bello vederli direttamente i sogni guardando azioni di grandi cani e qualche amico che sa ancora che cosa sia la vita quella bella e vera, vissuta fino in fondo, quella caccia. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!